Ok ragazzi, ciao, sono Alfio Mampanella, l'allenatore dei ragazzi e sono nella maestra di Arreda Fox a Picanetto. Adesso vi sto facendo vedere un minuto di video di due ragazzi di prima serie, a cui il gioco è salvo. È salvo con un casco perché si è fatto male un po' il ciglio, però non ha importanza. Vedendo che potete andare abbastanza momentato e vi fare un'idea di quello che è la Fox. Ok, continuiamo. Lecce! Arriviamo. Portiamo solo un pugno, combinazione 1, 2, 3, dai! Portiamo solo un pugno. Portiamo solo un pugno. P Tonghi acima. Portiamo ancora un pugno. Portiamo solo un pugno, no? Ok, sono Maribly. Grazie.